Ciao amiche e ciao amici, come eliminare il dialogo interiore negativo? Questo video per rispondere a Rossana che mi segue su YouTube. Ora, intanto dobbiamo dire questo, che noi abbiamo un ipnotista interno, di fatto, che è il nostro dialogo interiore, che ci condiziona tantissimo in quelle che sono le nostre scelte. Ci condiziona perché, diciamo, spesso creiamo, attraverso proprio questo dialogo interiore inconsapevole, delle profezie nefaste che si autoavverano. Ad esempio, uno, mentre, che ne so, sta facendo qualcosa, questa cosa gli va male, inizia a dire, sono un solito coglione, per dire. E questo, sono un solito coglione, in realtà diventa un programma operativo, per cui, è come se dicesse alla sua parte emotiva, senti, fammi diventare un po' coglione, ancora di più magari di quanto sono, già io. E quindi, diciamo, si innescano dei loop. Tutto questo perché? Perché, qual è la chiave di tutta questa lettura? È che avviene in modo subliminale, perché se io mandassi un messaggio consapevole, sono un solito coglione, a livello logico-razionale, me lo mando, ci rifletto, adesso lo dico, incontrerebbe tutte le barriere della parte logico-razionale. La parte logico-razionale inizierebbe a dire, ma no, ma che stai dicendo? Invece, il problema del dialogo interiore è che è subliminale, quindi bypassa, supera le difese della parte logica e va direttamente nella parte emotiva. È come se piantasse un seme in un terreno fertile, tenderà ad attecchirsi. Quindi, l'unico modo per, diciamo, eliminare il dialogo interiore negativo è quello di renderlo consapevole. Cioè, io ogni volta che mi scopro a dire, dobbiamo però diventare consapevoli, altrimenti il dialogo interiore è veramente potente e potrà, diciamo, condizionare molto la nostra vita. Quindi, ogni volta che io mi dico delle frasi negative, ad esempio, eh, sono solito sfigato con le donne, per dire, questa frase qua perde potere nel momento in cui la consapevolizzo, cioè, ci rifletto, la vedo, diciamo, ne prendo atto e dico, ma che cavolo stai dicendo? Con le donne ho successo. Quindi vado a mettere subito l'antidoto. L'antidoto è un qualcosa di più, ma già rendersene consapevoli, esserne consapevoli e non lasciarlo passare nel dimenticatoio, così. Certo che uno, mentre lo dice, magari ci pensa pure, ma in passante, in realtà il messaggio va al di sotto della soglia di coscienza, quasi, è fondamentale. È fondamentale perché, diciamo, possiamo bloccare, possiamo togliere il potere nefasto a questo dialogo interno. Inoltre, c'è da dire una cosa che noi possiamo anche utilizzare un messaggio positivo che deve diventare un, come dire, un intercalare. Quindi dobbiamo renderlo inconsapevole i messaggi positivi. Quindi, sono il migliore, ci riesco, ho sempre successo. Utilizzare questo tipo di messaggio in modo inconsapevole, in modo tale che noi lo ripetiamo senza neanche più pensarci. Nel momento in cui ripeteremo messaggi positivi senza neanche più pensarci, ci costruiremo delle profezie, autoverantesi positive molto interessanti. Bene, per questo video è tutto. Vi do appuntamento al prossimo. E se vi iscrivete al canale, anche voi avete la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di condividerlo con tutti i tuoi amici sui social. Ciao! Ciao!